Ciao ragazzi Non ve l'ho detto Lo vedete? Ieri ho trovato questo capellone bianco No no ma anche qua E' che era proprio grosso Era dalla punta a tutta Era proprio lungo Ok Ah regà prova a sparare qua Lorenzoni Ok grazie per il bentornato Prova a sparare al koala Oh 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 Io all'epoca streammai qualche giocata di Hogat qua su Twitch vi parlo del 2015 Prima ancora che chiunque del mio gruppo Io e Mollu streammavamo qua Forse anche il Fazzone Ma gli altri nessuno No forse non era neanche il Fazzone Non era neanche il periodo del Fazzone Il Fazzone è iniziato a streamare Quando poi su Youtube aveva fatto il Blastfini a Montage E io prima ancora Facevamo le live Io con XSplit streammavo Figuratevi A me streammare Piaceva quando mi piaceva fare regia Quando mi piaceva fare regia Quando mi piaceva mettere grafiche Fare le robe live Improvvisare Fare quelle robe lì Quando non c'era corsa Non c'erano aspettative La gente si divertiva E basta a priori Perché era bello streammare Era una cosa nuova Adesso invece E non credo Non credo che sia come dici tu Edmond Perché non sarebbe stato per me Streamare significa essere capaci di Improvvisare Essere capaci di stare davanti a una telecamera Essere capaci comunque di intrattenere Di creare E di gestire Perché è facile dire Faccio partire la stream E dico 4 stronzate va bene La maggior parte degli streamer di adesso invece sono Faccio partire la live Faccio il contenuto che devo fare Ma La cam non mi funziona 7 ore contenuto sulla cam che non funziona La GoXLR non fa i suoni che devo 8 ore sulla GoXLR che non funziona Non sei uno streamer Capito Quello non è uno streamer Quello secondo me è una persona che Vorrebbe essere uno streamer Ma lo streamer Ma non è uno streamer Uno streamer è uno che è polivalente E sa fare tutto E sa gestire Una streaming Se no che cazzo di significato ha Ho fatto sesso con Lucilla Sì sì guarda È successo Tutto Nelle ultime Dieci ore Certo certo Ho preso il mio Il mio Il mio UFO Privato Che Viaggia alla velocità della luce Sono atterrato Sul Palazzo di Lucilla L'ho Sbombolata tutto E poi sono tornato a casa Sempre sul mio UFO Con ET che guidava Come cazzo Che cazzo Come Che cazzo di domanda è Apro subito ragazzi Apro subito le bet per voi Per noi Today tomorrow Toyota Today tomorrow Toyota Toyota Today tomorrow Toyota Toyota Subire una stream con il Masseo Letteralmente impossibile Ah no perché me l'hanno già fatto Il Masseo in stream No C'è una topolona La mia topolona Mamma mia quanto sei buona Ti sborro nella gola La mia topolona Ma se ti dico Ma se ti dico Stupida baby cosa mi dici? Eh? Stupida baby Cosa? Io ti dico Stupida baby Tu cosa mi dici? Stupida baby? Cosa ti devo dire? Stupida baby? Guarda Non so la risposta Stupida baby T'è la rima con Stupida baby La conosci? Sì che ho lato giù Stupida baby La conosci la rima La smetti di toccarmi Schifoso essere La salvata La salvata Figlio di t***a Ok Odio Pizzo di merda Bello di merda Non sono stato io Sì avevi il guccio rosto T'ho visto Ma non è vero Dai Se perdo le bet per sta cacata Mi incazzo Figlio di t***a Si gode Terzo Oddio secondo Perché in Svizzera ci sono i soldi Ma non è vero Svizzeri ladroni Ladroni svizzeri Mazzone tranquillo Tu hai quelle cazzo di banane di merda Che ti tieni sul culo Eh beh Da qualche parte vanno sta Olè Il tronco Del Marco Tronco Il Gianmarco Tronco Il Gianmarco Tronco Gt Ma vuoi farlo veramente o no? Non ho capito Ma non so che t***a vuoi chiamare Ma non vuoi chiamare le t***e Il Masseo Il Masseo Il Masseo Il Masseo Il Masseo Ti dico io cosa chiama il Masseo tra poco L'ambulanza Aspetta Chi è questo? Dai ma fazzo tu madre è veramente una succhia piselli Ma il cane ma t'ho visto Figlio di t***a Ma che cazzo vuoi? Sei un laido sei Tu sei un drogata Con i cani Il Masseo Madonna ragnofobica Ma che cazzo è Dominic ragazzi? Mortacci su Oh ufficio te faccio un regalo Porco No fazzo mannaggia la madroschia Oh biglio cani Fazzone potrei essere molto cattivo No ginga No mi hai fatto andare di sotto E ho anche perso il boomerang Il grande Martoc Ma si è un estremista Lo sapevo io Ho anche salvato il culo al primo Sono un coglione No 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 Faffanculo Bet Vincere Dai ragazzi Mi hanno tirato un Parca ma dosca ragazzi Spacco tutto Spacco tutto Spacco Cido Hai visto che c'è nella lobby Paola Pazzone potresti accelerare Stavo guardando con il nostro Coglione Teoricamente non siamo messi male Non ci posso credere Non ci posso credere Ma è uno schiacciato E chi paga per farsi schiacciare Teremo in Bosnia Paura in tutta Italia Madonna Che teremo da fatto Di facile fattura questa Oh rivelamento E' un impazzito mi sa E' passato E' passato E' buono Fuggi Mi fiedo E che cazzo devo fare Interrompi il trasferimento Della lista Cypher Il tizio La tizia Si Quello si è dato Tre cifre corrette Una errata E ho fatto Uno 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 zero Ho messo Ok prova Quattro uno No Allora L'ultima è zero Per forza Prova uno zero Uno zero L'hanno già messo Se che non l'avamo fatto in tempo A metterlo E' giusto Mamma mia Sono io Sono incredibile Ok esegui E intercetta Intercetta la lista nera Vai Sto eseguendo Stai facendo tutto tu E non posso fare un cazzo E' ora di tornare a casa Cazzo dice Sei un incompetente Il file è sparito Te l'ho fatta C'era qualcuno Che ti pedinava Non hai fatto Io tu sei l'esperto Brutta pippa Cypher Fa un culo Se non potrò avere io Quel file Non l'avrà nessuno Cosa intendi Oh no Il treno è stato violato Fuori controllo Noi ma dovrei andare Nel motore Ma zo Vai tutto dall'altra parte Strada Ti sto trasferendo Al quadro elettrico Oh no C'ho mille cose Devi dire robe Che cosa ti serve C'ho tutto su off Ok allora aspetta Che devo seguire il cavo Dimmi che cosa fare con on Allora aspetta C'ho tutto su off Io non posso fare niente RTD me devi aprire Ok RTD disabilitando Mi va Vai Fatto Vai aperto Sto entrando Istruzioni Ruotare le leve Nella posizione indicata Ah si Una guarda La parte in alto Una guarda All'una Una alle 11 Ah si Una è tutta Al centro Letteralmente Una guarda su Una giù Al centro Una è Come se Una in orizzontale Un pelo più a sinistra In basso Quella a sinistra E un po' più in alto Quella a destra Eh ma qua la sinistra Invece è tutta dritta Proprio alle 12 e mezza Eh che cazzo De ora è C'ho l'orologio Eh L'ho fatto Ok Perfetto Allora Qua c'ho etilene carbonato C'ho dito Rosso Verde Blu Allora Ok Metti rosso Sì Verde Aspetta che si sta caricando Vai Verde Rosso Sì Rosso Procedi Stabilizzante Apri Ok Stato composto alcalino Aggiungi gocce o no Quattro gocce Ad intervalli di un secondo Ok Dove ero rimasto Eh a rosso mi sa Devo ripetere rosso Rosso Messo Sì Blu Verde Verde C'è fatto Applica Vai fatto Ok Easy uomo Facciamo regolatore di carica Regolatore di carica Vai Eh mi devi dire un ID Allora 5134 Ok poi c'ho Solo 5134 5134 Sì Ok Dimmi Allora C'ho un quadrato con quattro lampadine Di cui quelle a sinistra sono accese A destra sono spente Due sono accese E sono a sinistra Ok Applicare una carica totale pari a zero Messo Sì Perfetto Easy uomo E ora manca compensatore laterale Sì compensatore laterale Io c'ho Quattro No Cinque asterischi Di cui i primi due sono verdi Uno è nero E gli altri due sono blu Quindi numero di connettori 5 Una sola affermazione vera Se il quarto Il quarto connettore è nero Attivare il connettore blu No 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 Il terzo è nero Se è presente più di un connettore verde Ed è presente Un solo connettore rosso Attivare il primo connettore verde Non è vero Se non ci sono connettori neri Attivare il secondo Non è vero In caso contrario Attivare il quinto connettore Sì no Devo attivare il quinto È giusto Dovrebbe essere questo qua Vai Mannaggia a me Manca un compensatore laterale Qua sono quattro asterischi Nero rosso Blu verde Ok Ok aspetta Allora se è presente più di un connettore rosso Attivare l'ultimo connettore rosso No Se l'ultimo connettore non è verde Attivare il primo connettore No è verde Se è presente un solo connettore blu Attivare il connettore verde Ok Ok verde Posiziona l'indicatore a tre quarti Quanti sono tre quarti di cento? Tre? Trenta? Eh sì sì Ho 75 Vai giusto Bravo fazzo La matematica non è la mia Allora regolatore di carica 4817 47 E dimmi come sono le cose? I quadrati sono le due luci sopra spente Quelle giù accese Ok Allora è quattro devi fare Quattro devo fare Sì Fatto Ok Batteria di resistenza Di riserva Ok Che composto dobbiamo fare? Spinello al manganese Spinello al manganese Blu Sì Rosso Aspetta che deve caricare Blu Rosso Dimmi quando Dimmi fammi un check Quando sono stati messi Vai poi poi Rosso Ancora Blu Blu Vai Rosso Vai Rosso Stabilizzizzante Allora è stato composto non diluito Quante gocce? Tre Entra un secondo Fatto Ok Rosso Rosso Blu Applica Vai freno Ho cliccato La gente Devono attivare i freni Contemporaneamente Dimmi quando ci stai Tre Due Uno Vai Ese uomo Mamma mia Che pazzi Questi due Questo gioco È veramente fan È vero che è figo È veramente Urlosiummico Gente dove Broschi Loppe l'ho pingato Dentro sta casa No no ma C'hai tutto Blu Non ti serve più Un cazzo Luttare adesso Ma non dici te Che non mi serve più Un cazzo Sì vabbè Dai Stai pure dietro Fammi Quel pompa Dietro 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 Che po' Che mi preoccupo Ed è qua sotto Lasera Che po' Lasera Metti il pompa Però Ma posso rimanere Una volta Con i miei compagni Vivo Aspetta che lo sento Ma stanno incendia tutto Che cazzo è che incendia Che chi è il piromane Occhio Occhio Oh porco Ma chi è che ci spara Ma chi è che ci spara Porco Ok questo botte Ci dà tutto Io salirei Questo qui E questo di ciò qua 3 2 1 No 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 Non lo devi ammazzare Ah ma non in quel senso Ma lo stavi guardando Mirando Giacomo Ma scusa eh Avete triggerato Stavo con un grammo Stavo con un grammo Ma che cazzo Hai trollato Tutta sta roba delu Che cazzo Appena lì Andiamo qua C'è il tifo C'è il tifo Stiamo qua c'è il tifo Allocenti No no scusa 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 Ma è forte Non volevo Non volevo No 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 Io guarda Non ho parole Ricorda Accovacciato Non ti sentono i passi Ok Aproffittati Aproffittati Avvicinati Eh niente Le sei alzato Te l'hanno sentito Oh Aspetta aspetta Fagli 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 Bravo Sparavalle Bravo Dai che forza Zoom 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 Balletto No Non mi fa Per Balletto Non ci sto C'è Quanti Chi l'hai fatto La parte La più Improbabile Della storia Beh ragazzi Non hai capito 35 A me Mi ha preso Lui la roba Però io non so Che costi Devo dire Eminente Ah ma una nuova Mi era assistita Perché ovviamente Avevo cliccato Io Oh porco Non c'è un'arma Insaccata Di merda Puoi usare le granatine Quelle viola Per salire di sopra O il jetpack Però meglio le granatine Cazzo Sono andato Titti Titti Beh Le devi però Impostare bene Per volare tu Sopra di loro Ma quanto lag Ragazzi Ma lo state vedendo Eh margione Ma dove Devi più voltato Ma dove sei Atterrato Margione Ah è meglio Se non te lo dico Che cosa è successo Guarda No È sparito Ma non è che Sta sopra Io sopra Non ci vado Ah Porca Troppa Stupidolini Bug Ma dove cazzo È entrato Ma dove cazzo Devo andare Qua Che cazzo È una luffi Trova la fonte Del rumore Chi è che fa rumore Qui nell'ufficio Abbiamo chiuso Fuggi Da chi Da chi Come si fugge Come si fugge Ma che cazzo vuol dire Non funziona Non funziona Non funziona la finestra Ma non si chiude Guarda E com'è che ti difendi Devo chiudergli le finestre E basta Via È un mega Furry Guardalo Oddio Ma si è aperta da sola But you must keep Going Stick it out Non funziona la finestra